Avrebbero estorto centinaia di migliaia di euro per finanziare la latitanza del capo di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, le 12 persone arrestate dalla via di Trapani nel corso di un'operazione che ha impegnato più di 100 tra carabinieri e poliziotti. Tra di loro anche un uomo d'affari di Alcamo, Vito Nicastri, a capo di un impero imprenditoriale nel settore eolico e da tempo sospettato di agire nell'interesse del boss di Castelvetrano. Compiendo una vera e propria attività di intermediazione immobiliare, Nicastri, insieme ai capi delle famiglie di Vita e di Salemi, avrebbe pilotato la compravendita di una tenuta agricola di 60 ettari appartenente alla famiglia degli esattori Salvo. Il profitto, indebitamente ottenuto, di oltre 200.000 euro, sarebbe stato in parte destinato a Messina Denaro. Matteo Messina Denaro, 56 anni ad aprile, è considerato il successore di dottorine Bernardo Provenzano alla testa di Cosa Nostra. Nonostante gli sforzi delle forze di polizia che dai primi anni 2000 tentano di fargli terra bruciata intorno, l'uomo è latitante da 25 anni.